Si va chiarendo la dinamica dell'aggressione di sabato mattina a Gianfranco Pigliacampo, il benzinaio di Cologna Spiaggia, grazie anche al resoconto fornito dallo stesso aggressore che poche ore dopo l'accaduto si è presentato con il suo avvocato in caserma. Si tratta chiaramente di un'unica versione che andrà comparata anche con ulteriori accertamenti. Ma stando a quanto riferito al PM della procura di Teramo, Laura Colica, i fatti sarebbero andati in questo modo. Nella mattinata di sabato il figlio dell'aggressore sarebbe stato mandato da Pigliacampo per riempire una bombola di gas chiedendo di scalare 20 euro da un presunto vecchio credito evidentemente non riconosciuto dal benzinaio che, stando a quanto ha riferito il 38enne, avrebbe pesantemente insultato il figlio che a quel punto avrebbe chiesto l'intervento del padre. Dopo un primo animato confronto per telefono, l'uomo si sarebbe recato dal benzinaio per acchiarire la questione. Pigliacampo, tuttavia, lo avrebbe pesantemente minacciato e provocato tanto da indurlo a sferrare un pugno talmente forte da farlo cadere pesantemente a terra e fargli sbattere la testa ad un cassonetto dei rifiuti. Il PM avrebbe, tra le altre cose, contestato il 38enne all'omissione di soccorso visto che subito dopo si sarebbe allontanato. L'uomo ha risposto di essersi spaventato. Alla luce di quanto è emerso fino a questo punto, resta comunque delicata la posizione dell'aggressore che rimane accusato di tentato o omicidio. Pigliacampo intanto continua a lottare tra la vita e la morte nel reparto di rianimazione dell'ospedale Mazzini di Teramo dove i medici parlano di prognosi estremamente riservata in condizioni critiche.